Abbiamo adesso in campo il Cavaliere Romano, si tratta di Emiliano Varagnolo che monta l'esperta AK Corgiana Z, binomio molto affiotato, da diversi anni uno dei punti fermi della compagine italiana, figlia di Cordalmè, la mamma una figlia di Zimbal Primo, 17 anni per la Cordiana quest'anno ma la vediamo ancora fresca come una rosa, molto veloce ci sembra il percorso del binomio italiano, a parte si conoscono molto bene, Emiliano Varagnola è a K Corgiana Z, due salti al termine di questa seconda manche, e sono zero le priorità, ottimo il percorso in un tempo di 43,26 va alle spalle di Pier Giorgio Bucci e Nina Fagerstrom, terzo posto provvisorio per Emiliano Varagnolo e la sua fida a K Corgiana Z.